E niente, ragazzo, ho aperto un mio video a caso e mi sono imbattuto in un commento di un certo Davide M2022, trattino basso, test01, che leggendolo mi ha fatto sorridere. E spero che vi farà sorridere anche voi, però il test lo ha pure modificato, che vuol dire, che aveva scritto, non so chissà che cosa, poi l'ho corretto e quindi l'ho modificato. Andiamo a vedere che mi aveva scritto, ok? Vai! Allora, ci vediamo che mi aveva scritto. Caro Peppe, mi presento, mi chiamo Davide e vengo dal 2028. Vabbè, facciamo fin da decrederlo. Ho progettato un software per modificare internet dal passato e quindi viaggiare nel tempo. Questo è un test, quindi non so se questo commento andrà a segno, ma lo spero. È perché ho scelto un tuo video su YouTube per sperimentare un mio progetto. Beh, semplice per avvissarti di un evento pazzesco che riguarda proprio te. Quest'anno, nel 2022, creerai un video virale in cui canterai e ballerai una canzone, di cui non ti posso dire il nome, che ti renderà famosissimo su tutto YouTube e raggiungerai il milione e lo supererai. In seguito, nel 2026, a provvedendo anche il futuro, pubblicherai un video che andrà virale in tutto il mondo, più virale del precedente, aumentando di ben 20 milioni di iscritti. diventerai lo YouTuber più famoso d'Italia e continuerai la tua carriera almeno fino al mio anno, il 2028. Poi non so neanche io cosa accadrà, però ti posso dire che sarai un uomo di successo e tutti questi video saranno un inizio di una leggenda. A questo punto, Davide, lo sai che ti posso dire? Che se volevi la notorietà, te l'ho appena data. Ok? Ciao Davide!